Delitto Natacella, prosciolta Anna Lucia Cecere. Non ci sarà dunque processo. Cecere è stata prosciolta dall'accusa dell'omicidio consumato il 6 maggio 1996 in via Massara a Chiavari. Lo ha deciso questa mattina da giudice per l'udienza preliminare. Cecere non era presente in aula. Cadono dunque anche le accuse di favoreggiamento e false dichiarazioni che la procura aveva rivolto a Marco Soracco e Marisa Bacchioni. Hanno assistito a questa udienza preliminare la madre e la sorella di Nada, Silvana Smagnotto e Daniela Cella. È stata prosciolta Anna Lucia Cecere, la donna accusata di aver ucciso il 6 maggio 1996 la segretaria Nada Cella nello studio del commercialista Marco Soracco in via Massara a Chiavari. Prosciolti anche quest'ultimo è l'anziana madre Marisa Bacchioni. Cecere era accusata di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Soracco e la madre Marisa Bacchioni dovevano rispondere di false dichiarazioni al PM e favoreggiamento. Per l'accusa avrebbero mentito i attori fatti fino a un mese fa. Cecere secondo il PM Gabriella Dotto avrebbe ucciso Nada per motivi di rancore e gelosia verso la vittima per via dalla posizione da lei occupata all'interno dallo studio di Soracco e la sua vicinanza a costui. Soracco e la madre sostengono gli investigatori della squadra mobile avrebbero mentito più volte. La procura potrebbe fare ricorso. Siamo attoniti e dispiaciuti e la famiglia stupita. La magistratura non finisce mai di stupirmi. Speravo e confidavo che si potesse approfondire. Sarebbe stato giusto celebrare questo processo, ha detto l'avvocata Sabrina Franzone che assiste Silvana Smagnotto, la madre di Nada Cella. La famiglia comunque sa. Sa che le cose sono andate come la polizia e la procura hanno ricostruito. Questa indagine è stata condotta in modo corretto da parte di tutti, conclude la legale. La madre di Nada ha pianto in aula la lettura del dispositivo ed è andata via sorretta dalle nipoti. Presentata questa mattina in municipio a Lavagna, un'idea condivisa tra Maratoneti del Tiguglio e Comune di Lavagna, cioè la prima Lavagnina e Run, corsa di 10 chilometri che si svolgerà domenica 10 marzo lungo i sentieri dalla Valle dei Berissi alla collina di Santa Giulia, con partenza e arrivo dalla Basilica di Santo Stefano. Per iscriversi occorre consultare il sito internet dei Maratoneti del Tiguglio. Offriamo ai partecipanti un panorama suggestivo e per certi aspetti unico, ha affermato il presidente dei Maratoneti Giampaolo Roggero. Siamo realmente soddisfatti di aver messo la tradizione Lavanina al centro di questo progetto, sostiene il consigliere comunale Carlo Romanengo. Il vice sindaco Elisa Covacci ha preannunciato anche il progetto Primavera nel Verde con, spiega, quattro escursioni gratuite con guida escursionistica tra marzo e giugno, lungo la Valle dei Berissi, la collina di Santa Giulia e lungo fiume. A Sestri Levante si discute sulle contravvenzioni elevate negli ultimi giorni ai proprietari dei cani che non abbiano con sé la bottiglietta d'acqua prescritta dall'ordinanza emanata nel giugno scorso. Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per capire se la decisione improvvisa di intensificare i controlli di questi giorni sia legata a qualche motivo particolare e se sia stata fatta una doverosa opera di informazione, spiegano i consiglieri comunali di minoranza del centro-destra Marco Conti e Diego Pistacchi. Se l'obiettivo è quello di avere una città pulita che tutti crediamo sia da Sestri Levante, si discute sulle contravvenzioni elevate negli ultimi giorni ai proprietari dei cani che non abbiano con sé la bottiglietta d'acqua prescritta dall'ordinanza emanata nel giugno scorso. Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per capire se la decisione improvvisa di intensificare i controlli di questi giorni sia legata a qualche motivo particolare e se sia stata fatta una doverosa opera. Il Comitato Impegno Comune Tutela Cittadini Rupinaro, presieduto da Davide Grillo, rende noto che al momento non presenterà ricorsi sulle opere che si progettano, preferendo la via del dialogo con l'amministrazione comunale di Chiavari. Grillo sostiene che i due ricorsi di altrettanti privati sono frutto di una profonda preoccupazione da parte dei cittadini nei confronti delle modifiche proposte e delle loro possibili implicazioni. Esprime solidarietà alla Fondazione Antonio Morando coinvolta nel ricorso relativo al tratto di sponda lungo 130 metri. È comprensibile, dice, il loro disappunto di fronte all'onere economico significativo derivante da tali interventi. È stata ripristinata la fornitura dell'acqua potabile a Casazza Ligore. Questa mattina presto, larga parte del paese della Val Petronia era rimasta priva dell'erogazione. È intervenuta la società che ha la gestione dell'acqua potabile, i reti e progressivamente c'è stato il ritorno del servizio utilizzando il collegamento con il pozzo di Sesti Levante realizzato nel 2015. Cari concittadini faccio un breve video per la questione dell'acqua potabile, sono stato contattato da molti concittadini, soprattutto ultimamente per quanto riguarda l'apertura delle scuole. Volevo tranquillizzare tutti che il problema è stato risolto, è stato risolto il problema grazie all'intervento di Reti che ha scollegato il pozzo di Casenuove e ha collegato quello di Sesti Levante e qui, lo devo dire, grazie all'intervento fatto quando c'è stato il problema della potabilità dell'acqua, abbiamo fatto l'interconnessione tra i due pozzi, quindi il guasto importante sul pozzo di Casarza, di Casenuove, è stato disattivato e quindi per il momento stiamo prendendo l'acqua sul pozzo di Via Sara Sesti Levante. Per cui la situazione dovrebbe tornare piano piano alla normalità per tutti, all'inizio per quelli che stanno più nelle zone più basse di Casarza, piano piano anche nelle zone più alte. I tecnici di Reti stanno andando alle scuole elementari e medie per verificare anche la fornitura in maniera urgente dell'acqua anche sulle scuole per poter ripristinare tutto in maniera da avere una regolarità anche all'interno delle nostre scuole. Quindi per qualsiasi cosa dovesse succedere vi terrò aggiornato, ma al momento la situazione è in fase di risoluzione. Grazie. Ieri infortunio sul lavoro per un 18enne stagista in una ditta produttrice di isolanti termici a Casarza Ligure in Val Petronio. Mentre stava lavorando ad un tornio il giovane si è tranciato il dito medio dalla mano sinistra e per sua fortuna è riuscito a sottrarsi alla macchina evitando di perdere l'intero ato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militi della Croce Rossa che dopo aver fermato l'emorragia hanno raccolto il dito e dopo averlo posto sotto ghiaccio hanno disposto l'immediato trasferimento del giovane all'ospedale San Paolo di Savona specializzato nei traumi alla mano. In fabbrica sono giunti anche i carabinieri della compagna di sesto elevante e gli ispettori dell'ASL 4 del Tiguglio per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate soprattutto trattandosi di uno stagista. La spiaggia di Sori questa mattina è stata interessata dal crollo del muro che reggeva un giardino privato con parte del terreno sovrastante. Dopo un volo di diversi metri tutto il materiale è finito sulla parte più orientale della spiaggia senza fortunatamente provocare feriti. Immediato l'intervento dell'amministrazione comunale. Abbiamo interdetto le aree interessate ha comunicato il sindaco di Sori Mario Reffo. Nei prossimi giorni verranno fatti gli approfondimenti geologici del caso tempo permettendo.